Allora la dottoressa Raffaella Sensoli, cosa sarebbe il Movimento 5 Stelle? Lei è consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle dell'Emilia Romagna. Se c'è la diga, vuol dire che lei o è l'acqua che è fuori uscita, che rischia di fuori uscita, oppure quel pezzo di monte che è crollato dentro il lago. Faccia lei. Se la diga deve essere una diga che deve continuare a mantenere lo Stato dell'Italia per quello che è stata negli ultimi vent'anni tra i governi Berlusconi e Renzi che si sono alternati appunto negli ultimi vent'anni, direi che sì, noi siamo quell'onda di cittadini che hanno voluto veramente segnare un cambiamento. Io invito il rappresentante di Forza Italia ad aggiornare il Presidente Berlusconi che il concetto di antipolitica è un po' superato, così come forse sono superati certi slogan che riportano i signori di Forza Italia in campagna elettorale, una riduzione delle tasse o un aumento delle pensioni senza andare a motivare, usato solo come slogan, sinceramente non ci convince perché appunto questi signori hanno già avuto modo di governare. Inoltre l'appunto sui governi anche dei comuni, io non sono d'accordo, basti vedere l'ultima classifica fatta per quanto riguarda il benessere, la qualità della vita all'interno dei comuni, Roma, la tanto criticata Roma, la tanto attaccata Roma da quando esiste il Sindaco Raggi in realtà è schizzata di diverse posizioni verso l'alto nella classifica, quindi evidentemente qualcosa di buono la stiamo facendo. Sì, io però, poiché dopo affronteremo anche politica nazionale, c'è un detto latino che dice nemo repente fit summus, che tradotto significa che nessuno improvvisamente diventa grande, io sono convinto che gli esiti di un programma non arrivano se non dopo uno, due, tre anni, questo vale per tutti, non per Roma, per Torino, per tutti i paesi, ma anche per il governo nazionale e l'Europa. La gente viene votata non per quello che fa nelle sue ville, nelle sue case, nelle sue camere, ma per quello che fa in Parlamento nazionale ed europeo per i benessere cittadini. Perfetto. Questo è. Benissimo. D'accordo Raffaella Sensoli? Prego. No, nel senso. C'è una strana morbosità in Italia, per cui vita pubblica e privata per quanto riguarda un personaggio politico, secondo me, sono importanti in egual modo, è ovvio, dipende poi sempre quali informazioni si divulgano e come le si divulgano, perché la vita privata sono d'accordo sul fatto che sia poi uno specchio che si riflette sulla vita pubblica e sull'azione politica di una persona, perché inevitabilmente le proprie esperienze influiscono poi sull'attività politica. Certo è un conto. Faccio due esempi che non ci riguardano, tanto per capire, tanto per dire la chiave oggettiva con cui si cerca di analizzare. Sbattere in prima pagina l'onorevole Salvini, che ha avuto dei problemi sentimentali e magari erano fatti suoi, è un discorso con la relativa morbosità da gossip. Un altro discorso è parlare di una persona che forse ha commesso anche qualche reato, perché che qualcuno faccia gli affari suoi in camera da letto è giusto, che poi si parli di prostituzione è un altro discorso. Quindi chiaramente il confine tra pubblico e privato non è un confine fisso, sicuramente la propria moralità interiore influisce poi anche sull'attività politica. Ci sono alcune forze politiche che a seconda di dove tira il vento e a seconda della loro convenienza sparano dei giudizi di moralismo. Ad esempio il 5 Stelle ha fatto dell'insulto, della parolaccia il suo fondamento politico, perché ricordiamo Grillo come è venuto fuori, sinceramente un rappresentante politico che dice in continuazione delle parolacce in televisione, in pubblico, a me non mi piace, come penso che chi ricopre un incarico anche comunque pubblico debba mantenere sempre un certo decoro, però non bisogna estremizzare se vogliamo dire... Il diritto di replica alla Sensoli, la chiamate in campo. Io ho utilizzato la parola moralità, lungi da me il moralismo che va di pari passo col perbenismo che tante volte troviamo anche all'interno delle istituzioni. Siamo usciti non perché Grillo ha usato quelle espressioni, ma perché abbiamo avuto vent'anni purtroppo di politiche che hanno prodotto insoddisfazione e quella insoddisfazione è stata canalizzata. Sì, no, tornando sul discorso di Renzi, diciamo che sui titoli di giornale, diciamo che Renzi si è un po' fatto fuori da solo, mi dispiace perché la contraddizione di questo personaggio politico è palese agli occhi di tutti i cittadini, oltretutto quando si parla di partecipazione e di consenso, se la partecipazione alle primarie è quella che ha fatto emergere anche gli immigrati portati a votare alle primarie senza sapere nemmeno che cosa stessero andando a votare e il consenso è quello espresso alle stazioni quando Renzi scendeva dal treno, diciamo che dovremmo parlare in maniera oggettiva. Prima si parlava anche di insulti, perdonatemi, ma i veri insulti agli italiani in questi anni sono stati Italia la sanità per cui 12 milioni di italiani rinunciano alle cure tutti gli anni per mancanza di soldi e di denaro, quando la Costituzione garantisce le cure. Gli insulti agli italiani sono stati queste manovre di bilancio fatte a suon di mance tant'è che in due anni la spesa per le energie derivanti da fossili è aumentata del 14% ed è calata quella per le energie rinnovabili e l'ultimo insulto fatto agli italiani è questa legge elettorale che fa vincere chi perde e fa perdere chi vince e non permette agli italiani di scegliere i propri rappresentanti, quindi è inutile che parliamo di fiducia nell'istituzione e nella politica quando al cittadino non è concesso nemmeno di scegliere i propri rappresentanti. Però non accetto che venga così infangato milioni di persone che in carne ed ossa escono di casa e vanno a votare alle primarie del partito quando voi, non so che identità digitale verificate nel momento in cui fate le vostre primarie cliccando su, no però voglio dire i numeri sono anche da questo punto di vista incommensurabili. Movimento 5 Stelle, leggo, sento dire che siete pronti ad approvare. Allora riguardo lo Ius Soli qualche remora c'è nel senso che senza una concertazione comunque con l'Europa sulle politiche migratorie temiamo che sia una legge in questo periodo fatta solo per slogan elettorale per accontentare una parte della sinistra e che poi faccia un po' la stessa fine dei vitalisti per cui c'è stato lo slogan abbiamo eliminato i vitalisti in realtà no perché poi la legge non è passata da entrambe le camere ed è stata tenuta lì a covare. Riguardo il Biotestamento invece noi l'abbiamo dichiarato più volte siamo pronti, siamo d'accordo, siamo favorevoli perché è un diritto secondo noi che le persone possano scegliere ovviamente del proprio destino. Poche battute, i punti centrali del vostro programma, Movimento 5 Stelle. Poche battute, ora reddito di cittadinanza ovviamente è il nostro cavallo di battaglia ma fatto in maniera corretta e inserito all'interno di una politica di reinserimento del lavoro quindi non una misura assistenzialista come qualcuno cerca di far passare ma un modello per recuperare le famiglie sotto la soglia di povertà e reinserire nel mondo del lavoro chi ora non ha lavoro, politiche per le famiglie, non facciamo più figli e questo è un problema lo si diceva prima proprio per la mancanza di lavoro, la mancanza di reddito perché molto spesso c'è lavoro ma non c'è reddito e quindi le donne si trovano in condizione molto spesso di dover rinunciare al lavoro per stare a casa con i propri figli o non si possono permettere di fare figli quindi sicuramente politiche per le famiglie e ovviamente politiche per le piccole imprese il modello europeo ha fallito oltre che per una politica monetaria che adesso non abbiamo il tempo di discutere ma anche perché in Italia si è voluto imporre un modello specialmente quello neoliberista che non era nelle nostre corde, noi siamo fatti di tante piccole aziende specialmente artigiane che sono state la forza del nostro paese per centinaia di anni, non dico nemmeno decine e quindi imporre un modello che non è il nostro poi oggi ha portato ai casi di Amazon così come ad esempio in Emilia Romagna ha un modello di cooperazione che è stato completamente snaturato dalla propria origine noi abbiamo presentato un progetto di legge in Emilia Romagna regionale per quanto riguarda anche la revisione del modello della cooperazione che produce posti di lavoro ma non produce reddito Lei ha aperto un capitolo e meriterebbe approfondimento perché lei sa benissimo che in Emilia Romagna un abitante, siamo circa sui 6 milioni se non lo sbaglio 4 e mezzo 4 e 4 1 su 3 è cooperatore, socio di cooperative quindi bisogna analizzare bene il fenomeno poi ci sono le cooperative spurie ma non è questo velocemente Di Maio è andato in America e in Europa adesso dice sì all'Europa, sì all'Euro, sì alla Nato eccetera, ma cos'è cambiato? Prima non eravate di questo parere? No, noi non abbiamo mai detto né di voler uscire dall'Europa e per quanto riguarda il modello Euro sicuramente dovevano essere i cittadini a esprimersi il modello Euro così come è fatto oggi l'Euro è un fallimento ma non lo diciamo noi l'ha detto anche l'ex presidente Amato in un suo video che si trova liberamente su Youtube quindi i modelli, le istituzioni vanno bene in quanto tali ma non come applicate oggi grazie